Per carteggiare e verniciare a norma, per essere in regola con le emissioni, con soluzioni su misura. Non occupa spazio quando è ritratta, per evitare permessi edilizi e quindi evitare lunghe pratiche burocratiche. La cabina Jumbo è in regola con le emissioni in atmosfera, con la sicurezza degli operatori e con la tutela ambientale. Le versioni più piccole arrivano già montate e sono trasportabili con muletti adeguati. Nelle cabine Jumbo si può sabbiare, molare, carteggiare, verniciare, saldare, incollare e resinare. È dotata di 4 stadi di filtrazione, filtro inerziale, cassetti filtranti, calze in poliestere, cartucce con carbone attivo. La cabina Jumbo è disponibile in 6 colori.